Beanhole! Beanhole! È come il lancio delle pannocchie? Sì, quasi, ma più fagioloso. Lo scopo è far rotolare o lanciare sei Mighty Beans in quel forellino. Sei in quel forellino? Cosa fa Obi? Gli dà qualche consiglio su quale tecnica usare. Ha un messaggio in codice? Cerchiamo di capire cosa gli sta dicendo. Credo gli stia augurando buona fortuna, no? Sì! Oh! Ha tirato troppo forte! Adesso riprova! Questo invece è troppo piano. Forza, amico! Non scoraggiarti, vai con un altro tiro. Non ne vogliono sapere di entrare? Guardate la sua faccia. Il mio amico è davvero molto triste. Quanti punti, ragazzi? E sono zero punti per il nostro Jake. È stata davvero una sfida epica, ma per oggi dobbiamo proprio chiudere. Ci vediamo al prossimo episodio dei Mighty Beans Games! E buongiorno del ringraziamento! Ciao a tutti! Ciao, ragazzi! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!